Oggi ho deciso, di lasciare YouTube, il perché, ve lo dico, l'ultimo aggiornamento di YouTube, io ci sono stato dall'inizio, di YouTube con altri canali, però andando avanti questi cambiamenti, non mi sono mai piaciuti, un anno fa ho, aperto Yusuke 46 Urameshi, e sembrava che doveva continuare così ma, no, quei coglioni di Google doveva rovinare tutto, se no che gusto c'è, io ho sopportato, aggiornamento che, c'era fino a una settimana fa, stamattina mi ha alzato, do una guardata la gestione video, e che mi vedo, un pandemonio di aggiornamento, de sto cazzo di YouTube ci ho pensato fino, a, oggi, di cosa fare ho deciso di lasciare YouTube, non cancello il canale ma non carico più un video qui, ma su, Dailymotion, e in più cerco altri siti come Dailymotion, vi lascio in descrizione dove mi potete seguire ringrazio tutti gli iscritti, e mando a fanculo Google e YouTube.